Sentiamoci ad agosto, come sta andando il mio esperimento sociale? Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e anche oggi qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale cerchiamo di argomentare, di ragionare, non soltanto su news ma anche su esperimenti, come il mio test ad agosto ogni mese di agosto cerco di fare un esperimento e vi racconto quello di quest'anno 30 minuti di consulenza gratuita da bloccare nella mia agenda, così ho lanciato sui social chi mi segue su Telegram nel nostro canale lo sa benissimo perché l'ho detto più volte e per chiacchierare con me una call one to one sui vostri progetti è stato un super successo, già il primo giorno 50-60 quasi prenotazioni per tutto il mese di agosto e poi via via durante tutti i giorni si sono registrate più persone persone diverse anche fuori dalla community, soprattutto LinkedIn è stato diciamo una delle sorgenti più importanti quando ho messo il post sono subito registrato una serie di persone anche lontane dalla mia cerchia di connessioni ma con l'intento di parlarmi di un progetto e di chiedermi qualche consiglio è una grande soddisfazione innanzitutto ricevere così tante telefonate, call, video call, punti di contatto perché non ci sono solo gli wannabe, uno può pensare sì ma ti contattano quelli che vogliono fare i podcaster sì anche ma anche aziende che vogliono realizzare un proprio podcast ma anche start up che vogliono lanciarsi sul mercato ma anche persone che vogliono chiedere un consiglio dal punto di vista personale sul loro mondo del lavoro io non sono un tutologo, non sono un esperto di start up non sono un super espertore però diciamo ho 22 anni di esperienza nel mondo digitale della mia prima start up a fine degli anni 90 quindi in qualche maniera posso condividere e di sicuro posso dare il mio apporto su quello che faccio tutti i giorni per esempio il caffettino podcast questo è il primo elemento che mi porto a casa l'umanità delle persone persone che mi hanno raccontato la propria vita il proprio punto di svolta, il proprio bivio perché è vero, d'estate, ad agosto o i primissimi giorni di settembre è un po' come se fosse gennaio, l'inizio dell'anno e per cui uno si prepara a realizzare i propri sogni, i propri progetti il secondo elemento importante è che le persone hanno voglia di parlare di comunicare, di aprirsi e il fatto che sia gratuito secondo me è stato anche intelligente come esperimento ovvero ci possiamo mettere in discussione tanto alla fine è una mezz'oretta di chiacchierata ultimo l'evento, il terzo che ci sono dei bei progetti in giro ma ci crediamo troppo poco questa dannata sindrome dell'impostore ascoltando le vostre storie è presente ovunque è una figata quello parti, fai è questa la tua occasione invece no ci veramente flagelliamo su questa cosa che non siamo capaci non siamo capaci abbastanza mai, mai nella storia siamo capaci abbastanza per cui diciamo che forse il mio compito in queste mezz'oretta è spronare quando ci sono dei progetti interessanti e cercare di dare qualche link o qualche apertura o qualche presentazione alle persone per partire con i propri progetti di impresa qualche posto ancora disponibile potete andare chiaramente sui miei social trovate il link oppure mi iscrivete in privato su Instagram o su LinkedIn e trovate la possibilità di candidarvi sul mio calendari basta bloccare le ultime mezz'ore libere e credo che se c'è qualche cancellazione poi vi potete buttare all'interno quindi super esperimento sono strafelice una buona vita ragazzi e buon agosto per chi non si ferma